Benvenuti alla prima lezione del corso di economia e gestione delle imprese. In questa lezione introduttiva cercheremo di dare una definizione di quello che è l'oggetto del nostro corso. Noi ci occuperemo di studiare i processi di direzione e gestione delle imprese, quindi dobbiamo cercare di definire che cos'è un'impresa. Una buona definizione del concetto di impresa dice che si tratta di organizzazione economica che tramite un complesso differenziato di risorse, tangibili, intangibili, materiali e immateriali, svolge processi di trasformazione e acquisizione di beni e servizi che sono rivolti a mercati di sbocco, tutto questo con una finalità unica che è quella di creare reddito, che si deve produrre un reddito, un differenziale positivo tra ricavi e costi. In questa definizione ci sono parecchi elementi importanti. Innanzitutto il concetto di organizzazione, cioè l'impresa è un sistema di diverse componenti, ciascuna con una sua funzione specialistica, che tutte insieme però concorrono ad un fine comune, che è quello di creare valore, creare reddito. Altro aspetto interessante che viene sottolineato è l'apertura di questo sistema nei confronti delle componenti esterne, ossia l'acquisizione di beni e risorse dai mercati di approvvigionamento e ai mercati finanziari e dall'altra parte il collocamento invece dei prodotti e dei servizi nei confronti dei mercati di sbocco. Questo concetto è un concetto molto importante, in effetti noi diremo che l'impresa è un sistema, in quanto sistema le diverse componenti svolgono un'azione sinergica, nel senso che con una funzione specialistica concorrono ad un fine comune. Nella teoria dei sistemi sono tanti sistemi di riferimento, un sistema può essere quello meccanico, ad esempio un motore, dove ci sono tantissime componenti che ognuna con una sua funzione e insieme consentono poi di trasformare quello che è un carburante in un'energia che consente poi di trasportare, di far funzionare un'automobile. È un sistema però meccanico che ha delle caratteristiche che non possono essere assimilate al sistema di imprese perché è un sistema tutto sommato statico, nel senso che sicuramente sarà soggetto ad obsolescenza, però nasce in un modo e finisce alla stessa maniera. Mentre invece il sistema di imprese è un sistema che cresce, evolve, si adatta, innova e quindi può non avere un tempo di riferimento ed è un sistema profondamente aperto a scambi e influenze nei confronti delle varie componenti dell'ambiente esterno. Allo stesso modo un sistema biologico, vuole essere il corpo umano, presenta degli elementi di analogia con il sistema di impresa. È un sistema che ovviamente cresce, nasce e cresce, però necessariamente purtroppo muore, mentre invece un'impresa non necessariamente muore, al di là delle componenti imprenditoriali, nel senso che può andare avanti molto tempo, non solo, ma il percorso di crescita di un'impresa è un percorso che può essere deliberato, cosa che non avviene ad esempio in un sistema biologico. Quindi quando definiamo il sistema di impresa noi dobbiamo fare riferimento a un concetto di sistema sociotecnico, si dice, ossia con una componente sociale che è data dalle risorse umane nella loro dimensione sia fisica che soprattutto cognitiva e intangibile, ossia come capitale umano e patrimonio di conoscenze e competenze, è un sistema sociotecnico nel senso che altre componenti sono le risorse tecniche, quelle materiali che consentono poi i processi di trasformazione. Sistema sociotecnico di tipo aperto perché è profondamente aperto ad influenze interdipendenze nei confronti del contesto nel quale le imprese operano. In questo senso uno schema di riferimento mette in evidenza come ci siano dei rapporti più immediati e diretti con quello che viene definito microambiente, ossia le componenti di quei mercati con i quali si scambiano risorse e ci si confronta con i concorrenti. Il microambiente infatti noi lo dividiamo tra ambiente transazionale e ambiente competitivo. Ambiente transazionale è formato dal mercato del lavoro, ad esempio il mercato della produzione che fornisce i fattori di produzione, il mercato finanziario e il mercato competitivo invece vede come componenti il mercato di sbocco, quindi i clienti a cui si rivolge e i concorrenti con i quali ci si confronta. Però al di là di questa componente diciamo più immediata di microambiente all'esterno noi possiamo definire una cornice che è formata da varie componenti, di subsistemi del cosiddetto macroambiente. Che cosa intendiamo? Intendiamo ad esempio il subsistema tecnologico, il subsistema politico istituzionale, ossia caratterizzato dalle norme, dalle leggi che regolano i settori e l'attività umana in generale, il sistema politico, le forme di governo, il sistema economico di un paese o di una comunità, il sistema demografico, ossia come si compone la società, come si stanno modificando gli stili di vita. Tutti questi fattori operano nei confronti dei mercati che compongono il microambiente e nei confronti delle imprese generando opportunità e minacce. E tra l'altro questo tipo di rapporto è un rapporto di tipo interdipendente, nel senso che non genera soltanto influenze nei confronti del mondo delle imprese ma ovviamente ne sono anche influenzati. Un esempio banale che si può fare è quello ad esempio del settore degli scooter. Negli ultimi 30 anni è un settore che si è profondamente modificato nella sua struttura, anche nella sua dinamica competitiva e questo è legato a tantissimi fattori di carattere esterno. Pensiamo alle tecnologie, i nuovi materiali che hanno profondamente modificato la progettazione del prodotto o anche l'elettronica che si è inserita all'interno di questi prodotti. Dall'altro lato un sistema di norme che si è profondamente modificato tenendo conto di quelli che erano bisogni di carattere sociale che hanno poi generato questo tipo di esigenza. Ad esempio la legge che ha reso obbligatorio il casco per quanto riguarda i problemi della sicurezza stradale, oppure la legge che ha reso obbligatorio l'assicurazione per la responsabilità civile, la norma che oggi richiede un patentino per poter guidare un ciclo motore. Dall'altro lato questi sono fattori di carattere politico istituzionale che hanno ovviamente avuto un impatto enorme su questo settore. Ancora il cambiamento degli stili di vita, se noi pensiamo a quello che ha cambiato negli ultimi 30 anni, questo ha modificato profondamente ad esempio i segmenti di mercato. Se una volta i ciclo motore erano rivolti ad alcuni particolari segmenti di mercato, oggi per una serie di motivazioni di carattere sociale e anche ambientale, è chiaro che i clienti dei ciclo motore sono estremamente più vasti e quindi ci sono segmenti che si sono allargati enormemente. Questo ovviamente ha profondamente modificato la struttura del settore, per cui alcune imprese che erano leader nel mercato prima di tutti questi cambiamenti, quelle imprese che non sono state capaci di adattarsi in maniera innovativa a tutte queste componenti sciamo esterne e oggi si sono trovate in difficoltà e quindi nuovi player, nuovi competitor si sono affacciati in questo settore. Questo per dimostrare che esistono delle influenze molto importanti e un buon imprenditore deve essere in grado di interpretare correttamente i fenomeni che riguardano il macroambiente per poter poi determinare attraverso i percorsi di decisione strategica quelle che sono il posizionamento e le scelte strategiche di sviluppo dell'impresa attraverso processi di profonda innovazione. Detto questo, altro aspetto importante è che l'impresa è un sistema cognitivo, nel senso che deve produrre conoscenza, generare nuove idee. L'innovazione è la base di un percorso di crescita ed è l'impresa è un sistema che ha un carattere profondamente sociale, nel senso che ha una funzione che impatta nel contesto di riferimento, non soltanto sotto un profilo economico di creazione e distribuzione di ricchezza, ma anche per un impatto sociale. Qui tocchiamo un tema che è quello della responsabilità sociale di impresa, corporate social responsibility, di cui tanto oggi si parla. L'impresa nel momento stesso in cui apre uno stabilimento genera una serie di effetti che non sono soltanto effetti economici, ma sono effetti ambientali, effetti sociali in un contesto di riferimento in una comunità. E quindi in questo senso il sistema di riferimento dei valori non è più legato soltanto a obiettivi e finalità di carattere economico, ma deve contemperare, e soprattutto questo in una prospettiva di medio e lungo periodo, valori etici e quindi valori di responsabilità sociale rispetto a valori economici. L'impresa è un sistema che è finalizzato a creare valore, ma un valore non soltanto economico, un valore cosiddetto allargato.